L'idea mi è stata proposta in realtà dai Manetti Brosse che sono anche produttori del film e che avevano questo film nel cassetto da un po' di tempo e essendo noi amici e collaboratori di lunga data hanno pensato che fosse un film da declinare al femminile quindi me l'hanno proposto e ci ho pensato molto, ho cercato di capire in che modo farlo mio e poi siamo andati avanti costruendolo insieme e scrivendolo insieme è la storia di una dottoressa che è incinta, di pochissimo, che prende un lavoro, va a fare il turno di notte in un ospedale pediatrico e in questo ospedale pediatrico ci saranno degli eventi molto particolari che la porteranno a rivedere le sue idee rispetto al paranormale.